Fabrizio Tudisco, altro organizzatore di Play Summer e qui abbiamo anche in Sina. Tudisco, come sta andando oggi qui il Play Summer, l'inaugurazione? Guarda, sicuramente sopra ogni aspettativa. Di solito iniziamo sempre piano e poi cresciamo man mano. Invece questa volta subito un boom, abbiamo iniziato la maratona, bellissimo la parete con la murga. E adesso tra pochi minuti lo spettacolo dei numeri primi, ci sono davvero tantissime persone che stanno attendendo questo momento. So che il 29 c'è un personaggio importante che arriva qui a Ponte Cagnano. Sì, il 29 c'è Fabio Rizzo in arte Marrakesh, è un ragazzo attualmente uno degli artisti più popolari, soprattutto tra i più giovani. E noi con orgoglio ce l'abbiamo qui perché oltre a essere non è il solito artista del momento. Per noi insomma è un artista di spessore, di talento, che ospitiamo con piacere qui a Ponte Cagnano e siamo sicuri che avrà un ottimo riscontro di pubblico e di spettacolo. Grazie Tudisco. Passo da Enzina, lei che sta dando tanto in questo Conta Tour per il preesame. Posso dirvelo, vi giuro, Conta Tour che abbiamo fatto e posso dire che è andata alla grande. Enzina, oggi qui, inaugurazione del preesame, dai la tua impressione di com'è andata. Allora, la mia impressione è una bella impressione perché finalmente siamo partiti. L'importante è partire. Esatto. Una volta che si è partiti poi si va sempre increscendo. Siamo partiti bene, devo dire, la Murga è stata bellissima, spettacolare. A un certo punto ho visto tutte queste persone che arrivavano, colorate, festa alla grande, bellissima. Un corteo bellissimo, sì, hanno fatto uno spettacolo straordinario. Gianfranco Coppola con noi che comunque ha dato il suo tocco di professionalità e come dire, ha portato un po' della sua esperienza nello sport e diciamo un po' di vita anche perché comunque è un uomo che tutti stimiamo. C'era Manfredini con noi, quindi un altro sportivo e adesso tra poco inizierà con i numeri primi il Kubel Music Festival, tanto atteso. Una programmazione, guarda, anche quella di tutto rispetto e soprattutto di tanta attenzione, merita tanta attenzione. Quindi seguiteci sul nostro sito www.playsummer.com o sulla nostra pagina Facebook, andate lì e fate Mi Piace in modo che sarete aggiornati in tempo reale, diciamo, su tutte le novità e su tutti quelli che sono i tornei che si seguiranno in questi giorni. Vogliamo ricordare però anche gli appuntamenti musicali perché oltre a Marrakesh c'è anche Giulia Lenti. Giulia Lenti e Gamon Giovedì che sono due artisti giovanissimi però davvero anche loro di talento. Insomma abbiamo fatto una programmazione con tanti artisti emergenti e anche insomma il Marrakesh che è la ciliegina un po' sulla torta. E noi facciamo altro che dire We Play For Fun!